Ecco come salvare un mobile anni 70 e renderlo modernissimo, contemporaneo e perfetto per qualsiasi casa. Inizio togliendo i vecchi vetri e le modanature. Ora con una paglietta di ferro e dell'olio lucido le vecchie modanature in ferro, bellissime. All'interno stendo un ui parisiano, un colore scuro che farà risaltare il mobile. Lo stendo anche sulle gambette. Proteggo in modo che sia antigraffio. Con la colla per parati stendo una carta da parati pazzesca. Linea jungle, ma molto molto contemporanea. Crea un colore perfetto ad hoc che faccia risplendere la carta da parati. Lo stendo su tutta la superficie utilizzando il pennello Elisabeth che non crea striatura del pennello. Rifiniture con il prisione. Delicatamente proteggo col protettivo satinato. E voilà, il gioco è fatto. Un mobile contemporaneo perfetto per qualsiasi casa moderna. Non buttare i mobili della nonna, colorali e salvali con magic paint. Ciao ciao!